Un ben trovato a tutti a questa rubrica cinema e psichiatria che si propone di analizzare e di discutere, di far riflettere sui temi di psichiatria attraverso il cinema, il cinema che ci permette di vedere storie, fare riflessioni e quindi ci apre un mondo assolutamente interessante. Io in questo incontro vi parlerò di un disturbo da uso di sostanze, in particolare di allucinogene. Ne ho fatto già altri incontri con altre sostanze, quindi vi invito se volete a andarli a vedere. Qui vi parlo di allucinogeni. Ora, gli allucinogeni sono sostanze che producono dipendenza e producono una sintomatologia che in primo luogo è di tipo allucinatorio. I criteri diagnostici sono quelli usuali, cioè un uso smodato di sostanza, una dipendenza, una tolleranza, sintomi di astinenza e una permeazione della vita da parte, in conseguenza dell'uso della sostanza, quindi attraverso il meccanismo del craving, cioè della necessità assoluta di avere la sostanza, fino a produrre una colonizzazione completa della vita di chi fa uso di allucinogeni. I criteri secondo DSM-5 distinguono due forme di disturbo di allucinogene. Uno è legato alla fenciclidina e, ho detto anche, il sigla è PCP o polvere d'angelo, che è messo in rilievo, quindi come disturbo a sé stante, e poi l'altro disturbo è disturbo da altri allucinogeni. E qui c'è tutta una serie di altre sostanze che producono allucinosi, sono dall'ecstasy, l'MDMA, l'LSD, le peyote, l'ayahuasca, la psilocibina, insomma ci sono tutte le sostanze che possono produrre allucinazione. Vi ricordo che l'uso di queste sostanze non è indifferente, si calcola che nel corso della vita in Italia il 3,3% delle persone abbia fatto uso almeno una volta di allucinogeni. I film che riportano stati di allucinazione dovuto a sostanza, ovviamente i film per certi versi sono una forma di allucinazione, ecco, se vogliamo, così come sono i sogni, eccetera. Però insomma i film a cui io mi riferisco adesso sono proprio forme di allucinazione riprodotte sullo schermo, portate sullo schermo, conseguenti all'uso delle sostanze. Ci sono dei film molto significativi. Uno per esempio è Stati di allucinazione. Stati di allucinazione è del 1980, diretto da Ken Russell, ed è il protagonista, è un ricercatore che si mette, è un esploratore di stati di coscienza alterati, si immette in questa che è una vasca di deprivazione sensoriale e poi fa uso di sostanze contemporaneamente e quindi produce una serie di stati di coscienza che nel film sono descritti come ritorni a stati ancestrali dell'uomo fino agli sciamani, antichi sciamani e poi fino al Big Bang addirittura. Quindi un film visionario. Ma la cosa interessante è che il film si riferisce a degli studi realmente condotti da uno psichiatra, John Lilly, che è l'ideatore della vasca di deprivazione sensoriale, che poi ha trovato anche un utilizzo e che si è occupato appunto di studi, di stati di coscienza e di attraverso anche l'uso di sostanze, il peyote in particolare. Quindi è interessante anche da un punto di vista storico. L'altro film che mi sento di segnalare è Il pasto nudo, Il pasto nudo è del 91 di David Cronenberg e che si riferisce a come riferimento Il pasto nudo di William Burroughs. Io adesso non ho il tempo di narrare tutto quello che c'è dietro perché è una storia incredibile. Burroughs con tutto il periodo in cui poi lui frequentava appunto i riferimenti della cultura hippie all'epoca. Insomma, quindi diciamo c'è tutta una storia dietro. Il pasto nudo è di per sé un film che fa parte della filmografia classica di Cronenberg, quindi un film con una storia assolutamente frammentata in cui ci sono stati di allucinazione, ricordo appunto la macchina da scrivere che poi si anima, diventa una faccia terribile che aggredisce, ci sono tanti riferimenti allucinatori e l'uso è quello di una sostanza che produce questi stati alterati di coscienza. Però il film di cui voglio parlare è Paura e delirio a Las Vegas che è del 1998, diretto da Terry Gilliam e con Johnny Depp e Benicio Del Toro. Johnny Depp è il protagonista. Ecco, anche in questo caso c'è un riferimento letterario che è Paura e disgusto a Las Vegas del giornalista Hunter Thompson. Anche qui c'è una storia molto interessante perché Hunter Thompson è stato un giornalista reale che ha creato una sorta di giornalismo che veniva chiamato gonzo giornalismo, cioè una sorta di giornalismo dove la verità dei fatti non era molto importante, era importante l'interpretazione da parte del giornalista, giornalista che in generale faceva uso di sostanze, quindi diciamo una realtà piuttosto alterata. Quindi c'è tutto questo riferimento molto interessante alla base. Il film di per sé parla della storia di Raoul Duke interpretata da Johnny Depp che parte con una decapottabile più o meno rubata, diciamo perlomeno sottratta ad un negozio di vendita di macchine con il suo avvocato Gonzo, dottor Gonzo, tutte e due completamente fatti, completamente in preda alle sostanze, con un baule pieno di sostanze, attraverso il deserto per raggiungere Las Vegas. Durante questo viaggio ci sono le prime allucinazioni che sono queste allucinazioni di pipistrelli che attaccano la macchina e quindi Johnny Depp, posso dirlo così, guida ma cerca anche di difendersi da tutti questi pipistrelli che gli arrivano addosso. La storia poi prosegue, insomma ci sono tante storie, tanti avvenimenti che si susseguono una volta arrivati a Los Angeles, si incontrano gente più o meno fatta anch'essa, affrontano vari pericoli, scene di violenza subite, fatte, compaiono anche coltelli, comunque fanno tutta una serie di assolutamente malefatte, tanto a un certo punto che lui appunto il protagonista, Raoul Duke dice ma l'unica consolazione è che ne abbiamo fatte talmente tante a Las Vegas che se noi le raccontiamo non ci potrà credere nessuno, insomma quindi è così, ne hanno veramente fatte, ne hanno fatto tante. Allora poi si allontana l'uno dall'altro, si ritrovano insieme e poi vanno via e poi Gonzo lo lascia, cioè Raoul Duke lascia Gonzo che va a prendere un aereo e lui prosegue, prosegue verso altre storie e di cui poi non sappiamo. Le scene sono scene molto crude, anche alcune violente, alcune francamente schifose, Gonzo è in un certo punto in una sua vasca piena di vomito e chiede a Raoul Duke di ucciderlo, buttandogli la radio nella vasca, quindi insomma sono scene un po' così. Allora il film come va interpretato? Beh innanzitutto sono scene allucinatorie molto belle che sono quelle, una è sicuramente la più bella, quella dell'attacco dei pipistrelli, quindi la seconda direi è il pavimento, un pavimento che si muove, ci sono immagini, c'è un pavimento con figure geometriche che si muovono per cui diventa tutto molto instabile e appunto il commento suo del protagonista dice c'è bisogno di scarpe adatte insomma per stare su questo pavimento e poi c'è la scena in cui gli altri diventano, assumono delle fisionomie assolutamente deformate con trasformazioni in teste di rettili molto spaventose. Ecco insomma diciamo che dal punto di vista allucinatorio queste sono le cose più evidenti, però è tutto il comportamento loro che è completamente dissennato potrei dire. Ora è un film che si propone di esaltare l'uso delle sostanze? Fondamentalmente no, è un film devo dire molto divertente, molto simpatico da vedere, però il messaggio di fondo è un messaggio triste, è un messaggio triste perché diciamo il riferimento è ai primi anni 70, quindi in epoca post hippie, dove tutto il mondo hippie ovviamente ha fatto grande uso di sostanze, ma c'era anche un'ideologia dietro. Bene, in questo caso a pochi anni di distanza di fatto l'ideologia non c'è più, c'è solo l'uso della sostanza e questa sostanza è un modo, queste sostanze sono un modo a cocaina, ma non so, ma c'è anche mescalina, c'è lettere, sono tutte prese insieme tra l'altro, insomma è un uso che vuole essere di tipo contestatorio, ma ovviamente senza nessuna ideologia dietro rispetto ad una società in qualche maniera perbenista americana, la società americana c'è l'uso delle, c'è un sacco di bandiere americane che vengono anche utilizzate in maniera impropria da parte loro, quindi diciamo è un messaggio che la fin fine in senso profondo è un messaggio di tipo triste insomma, cioè non ci rimane altro che l'uso della sostanza, però rimane un film assolutamente fantastico da vedere, ci sono delle frasi iconiche che sono rimaste, ve ne leggo qualcuna, Gonzo che dice come tuo avvocato all'inizio del film ti consiglio di noleggiare una decapottabile velocissima e ti servirà della cocaina, un registratore per musica speciale, camicie di Acapulco, andartene da Los Angeles per almeno 48 ore, addio mio weekend perché naturalmente dovrò venire con te e in più dovremmo andarci armati anche fino ai denti, quindi questo è l'inquadramento dell'avvocato. E invece poi c'è la descrizione di che cosa contiene la macchina e questo è fatto appunto da Raul Duke, dice il baula della macchina pareva un laboratorio mobile delle narcotici, avevamo due borsate d'erba, 75 palline di mescalina, 5 fogli di LSD superpotente, una saliera piena zeppa di cocaina e un'intera galassia di pillole multicolori eccitanti, calmanti, esilaranti e anche un litro di tequila e uno di rum, una cassa di Budweiser, una pinta di etere puro e due dozzine di fiale di popper. Non che per il viaggio ci servisse tutta questa roba, ma quando ti ritrovi invischiato in una serie raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che puoi, quindi un collezionismo che ovviamente in questo caso è per le sostanze. Altre frasi sono l'etere stava svanendo, l'acido era sparito da un pezzo, ma la mescalina stava andando forte e quindi poi c'è tutta la scena dei pipistrelli con appunto un dialoghi devo dire molto esilaranti. Bene, io questo film credo che sia assolutamente da vedere per chi non l'ha visto, vi ringrazio per questo ascolto e vi rimando a prossimi incontri.